Alla polivalente di Gubbio sabato prossimo si gioca alle ore 15 e 30. In campo il futsal cittadino con la formazione di orte per la seconda giornata di campionato di calcio a 5. Una partita in deroga in attesa che si chiarisca la vicenda dell'assegnazione della struttura con conseguente ristrutturazione. Diversamente si dovrà migrare a scheggia che è di fatto l'impianto sportivo indicato alla Lega come struttura di riferimento. Il futsal è insieme al basket Gubbio e alla pallavolo la terza società sportiva che ruota intorno alla polivalente per l'affidamento della quale la provincia ha emesso un bando in cui si assegna la struttura per sei anni a chi si farà carico della sua risistemazione entro il giugno 2016 per un importo totale di 42 mila euro. Una cifra ingente spiegano dalla società sportiva di calcetto soprattutto per chi come loro non ha a bilancio nemmeno una spesa sul fronte rimborsi e basa ogni sua attività sul volontariato puro e sul divertimento. In questo limbo che sta tra un bando in scadenza al quale nessuna società sportiva con facilità può partecipare e i campionati alle porte, basket e pallavolo saranno al via in ottobre, le squadre si arrangiano come possono ottenendo deroghe in attesa dell'assegnazione. Un tavolo tecnico convocato in comune dal sindaco Stirati e dall'assessore Mancini ha fatto sapere che l'amministrazione comunale tenterà di venire incontro alle società sportive ma non potrà certo sobbarcarsi interamente oneri di ristrutturazione e bollettazione. Ne si può pensare ad un dietro fronte della provincia in merito al bando. L'ente, spiega il sindaco Stirati, è sull'orlo della bancarotta, non può accollarsi la ristrutturazione della polivalente. Polivalente che per gubbio è a tutti gli effetti il palazzetto dello sport della città, rinunciarvi sarebbe impossibile. Se la questione palestre resta al palo si sono conclusi nei tempi previsti invece gli interventi sulle strutture scolastiche finanziate dal Ministero per le Infrastrutture per l'adeguamento funzionale e la messa in sicurezza degli edifici. I lavori hanno riguardato nello specifico la scuola primaria di Cipolleto e la scuola di infanzia di Fassia a Ponte d'Assi. Infine è stata adeguata anche la palestra di via Perugina.